bella ragazzi siamo i creato nas e siamo tornati qui oggi con un nuovo video e oggi siamo qui per fare una nuova serie serie speriamo che vi piaccia questo gioco abbiamo scaricato questo gioco che abbiamo visto anche da altri youtuber quindi non lo facciamo solo noi lo fanno parecchia gente ci è piaciuto e quindi volevamo farlo anche noi sul nostro canale e il gioco è papers please gloria adastowska no? cosa dobbiamo fare in questo gioco? dobbiamo praticamente far entrare le persone nella frontiera e cioè decidere se possono entrare o meno quanti dobbiamo controllare i documenti e tutto quanto e dato che sono tutte persone molto stravaganti quelle che si presentano al nostro coso se tagliamo comunque riprendiamo perchè siamo messi un attimo pausa l'altteriore del lavoro di ottobre è terminato e è stato stato il tuo nome fai rapporto al ministero dell'accoglienza presso il presidio di frontiera a Grestin per il collocamento immediato alla tua famiglia verrà assegnato un appartamento di classe 8 a Grestin Est cazzo è molto accogliente si si no bellissimo gloria adastowska sempre e comunque presidio aperto dopo 6 anni ragazzi allora bollettino ufficiale rispetto a ricongruzione per l'assunzione per essere presidio di frontiera a Grestin timbrare il visto di entrata sui passaporti e restiturre i documenti richiedenti entrate limitate sui cittadini adastowska e fidare tutti i stranieri gloria adastowska prestare attenzione alla nazionalità del passaporto ok ok aperto dai basta che siano darstowska quindi documenti prego questa mi sembra darstowska allora vediamo lei è darstowska quindi scade nell'83 il 12 10 no è scaduto è scaduto? eh si perchè stiamo al 23 novembre ah no 83 che cazzo dico eh non è vero vedro sbam timbro perfetto ciao bella sbam ok questa ciao perchè non è garstowska se vede proprio subito dal colore del passaporto se è tipo quella grigio merda è garstowska se no se è tutti gli altri colori grigio merda però tutti gli altri colori è è merda è grigio è merda e basta dai documenti ciao te sei di repubbia eh niente repubbia qua no solo perchè ciega altrimenti ruspe non possiamo fai entrare tutti cioè cazzo eh no a Salvini a Salvini piacerebbe molto a sto gioco ma lui sa è entrato in politica giocando a sto gioco si l'ha finito ha detto allora una donna un po' cicciotta quanto sei carina però non entri mi dispiace sti cazzi tiè io volevo fan faccia al timbro solo ci tiene nel slot cazzi cioè mi dispiace vai veloci dai dai che c'è una filata madonna dai ok c'è un vecchietto documenti aprire questo presidio è grave errore e se ne va a cab va bene sempre allora questa è un po' bruttina però è D'Arstowska quindi ci tocca farla entrare 84 vai vediamo sesso femmina ci tocca farla entrare purtroppo pure quelle brutte purtroppo non c'è sta una regola che viene per entrare quelle brutte allora questo questo si è appena scongelato secondo me è ancora invernato è D'Arstowska 84 ci tocca far entrare pure l'uomo l'ice man qua ok un altro che si è appena scongelato però diciamo che lo mandiamo a scongelarsi al paese suo esatto e dove dove è il paese suo esattamente in sottofice no sottofice in impor ciao vai a impor tornate da impor a argelo prossimo se no te stai scongelato lei invece ha appena avuto un rapporto con un alieno mamma mia però non può entrarsi me ne spiace perché sei di impor anche tu vai con ice man e vatti a divertire ok finalmente una che ha colori umani però non è D'Arstowska quindi tu non entri va al paese tuo strunza dai che abbiamo lavorato bene e tanto questa sera 4 ok sbababam ammazza i sorti che l'hiamo fatto è permesso accesso agli stranieri con passaporti in corso di validità la guardiola è la data dell'attrezzatura ispezione ok quindi dobbiamo verificare i congruenzi dobbiamo controllare quindi se è giusta la scadenza posso entrare pure gli stranieri si allora vai tec questa è più questa sembra ne ha troppi mirtilli allora questo qua è valido 84 quindi può entrare da paura ciao core te ne vai a fanculo e porta i mirtilli nella nostra patria certo non creare problemi lui è un fedele di satana si si lui ha la croce girata questo è di Antegria scade 82 82 1101 quindi ciao è scaduto ciao vai da satana vai da satana fate fate fare il passaporto e poi torni lei chi è Elvis Elvis è femminile questo va benissimo vai può entrare si può entrare può entrare no non è lei però in foto scusa non è lei è vero non puoi entrare aspetta chiedi mi fai l'incongruenza è vero una foto con lei rilevata vai interroga non assomigli a foto è vecchia foto non entri finisce qui quindi si vabbè è vecchia però se ti sei fatta di plastiche non puoi entrare questo è proprio D'Arsosca guarda è lui non ci stanno incongruenze autobus tra poco non tanto sta ma cazze vai vai vada a piastra autobus dai veloce non c'è vabbè almeno è uno che è fedele a D'Arsosca la rettentità vedi lui ha la foto in copertina ok questa è Popo Iceman questa è allora è lei è lei è lei è lei è una donna è maschio no è una donna lei quindi rifiuta dove dica è una donna è una donna guarda fai incongruenza sei maschio o femmina tutte e due perché chiedi perché dovevo entrare vabbè allora visto che sei così stronzo stronza stronzo fanculo ciao allora questa qui è la madriosca ciao bello è la madriosca d'Arsosca sembri annoiato vuoi divertirti vieni a trovare voi no guarda non mi voglio divertire con te no 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 vediamo un po' però mi tocca farla entrare purtroppo si tiè ciao core io resto un paio di mesi ricorda di visitare noi si 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 ma articoli non usate tranquilla arrivo oh quindi oh sta a scavarca ah sta a scavarca si guarda guarda affami fuck up si fuck the serious m però sono morti tutte e due è stato un suicidio-omicidio si no un suicidio-omicidio giornata rotta per l'attacco terroristico i progressi vengono salvati all'inizio di ogni giorno rispondi pa 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 15 che cazzo mamma l'entrata di non cittadini è ora regolamentata tutti gli stranieri necessitano di regolare il cedolino d'entrata verificare i dati prima di timbrare vista l'entrata ok dobbiamo controllare il cedolino esatto vai è aperto si documenti prego non c'è il cedolino via non c'è il cedolino ce l'ha allora questo è valido però è maschio non è una femmina no no è femmina è brutta ancora 82-11-25 sicuro secondo me è maschio no fidate guarda se non ci vedano il richiamo no fidate ti preoccupa è lei è lei cedolino dietro ciao core veloci dai veloci dai 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 ah questo qua non c'è il cedolino che bello quando non ti danno il cedolino via subito a casa vai ok questo è Harry Potter il ghiacciato si allora allora ah non è lui non è lui allora rileva incongruenza non sei te si vai tu aspetta è cambiato non so che dire sono io si si ok io sono Valeria Marini e non lo sai non entri visto che sei te ciao ciao e ciao torna un altro giorno ok questa non c'ha capelli oddio che figo questo passaporto ho avuto un attacco terroristico sei fortunato di avere ancora lavoro si si cerca di distrarci guarda questa c'è qualche problema va bene femmina però sembra lei brutta un culo è lei purtroppo no pensavo che non c'era qualche problema ma lei sai mentale sicuramente di faccia c'è là qualche problema un vecchiettino esatto oh ecco qui gloria della scossa ah questo qua è il paese migliore si vai ok questo qua però non c'è da il documento quindi che dobbiamo fa interroga non c'è il passaporto perché dov'è il tuo passaporto passaporto arstosca è così forte che passaporto non serve giusto passaporto è richiesto ok ok capito ritorno ancora ciao ciao una femmina dai c'è la barba ma poi victor dai ma poi ma come sta io victor cioè ho fatto cosa ho fatto operazione se maschio o femmina perché chiedi perché devo capello perché intanto non entri si mi dispiace vabbè tanto per il cellulino andava bene da carcazzo victor ciao victor torno dopo operazione ci hanno attentato qualcosa no è finito la giornata ho fatto entrare a 4 persone da stotzca 30 dollari dormimo la socia resta ok il fio tutto ok a posto comunque ragazzi abbiamo finito il giorno 3 quindi terzo livello se vi è piaciuto questo video lasciamo 5000 like e ci becchiamo al secondo episodio di questo gioco e niente sempre con la reta stotzca da cannes è tutto ciao ciao